Un solo euro a famiglia per aiutare migliaia di nuclei familiari in difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid-19. L'iniziativa lanciata dalla Fondazione Forum Famiglie, a cui ha preso parte anche il Forum Puglia. Sentiamo. Il poco che fa tanto per molti il prezzo di un caffè. Un solo euro a famiglia per aiutare migliaia di nuclei familiari messi in ginocchio dalle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. È l'iniziativa lanciata dalla Fondazione Forum Famiglie con una campagna web e social e un videoclip a cui presta la voce e il volto la popolare attrice Beatrice Fazzi. Anche il Forum Puglia è in prima linea in questo progetto. Un euro a famiglia è una campagna nazionale di solidarietà interfamiliare che ha l'obiettivo di valorizzare il protagonismo delle famiglie italiane e la sussidiarietà orizzontale. In un momento delicato e difficile per tante mamme e papà che, prima della crisi generata dal coronavirus, riuscivano a mantenere i loro figli, a pagare le rate del mutuo, a onorare l'affitto mensile, ma che negli ultimi mesi sono sprofondati sotto i colpi del lockdown e delle restrizioni anticontagio, perdendo in molti casi il lavoro e con esso tutte le certezze sul futuro. La proposta è nata dalla lettera aperta di un'operatrice sanitaria che metteva a disposizione il compenso extra ricevuto per l'assistenza ai pazienti covid, con il fine di aiutare uno o più famiglie in sofferenza economica temporanea. A questo messaggio, nel tempo, si sono aggiunte altre famiglie disposte a fornire un sostegno economico a nuclei in difficoltà. Da questo slancio nasce il Fondo Famiglie, un contenitore grazie al quale la fondazione potrà raccogliere le donazioni dei benefattori, incrociandole con le richieste di aiuto. Un euro a famiglia non si ferma all'aiuto economico, bensì attraverso una rete di consulenti familiari e associazioni specializzate, offre a chi ne avrà bisogno servizi di consulenza per varie necessità familiari. Centro dell'iniziativa è il sito web fondofamiglie.org, dove è possibile conoscere tutti i dettagli su come donare e come chiedere aiuto. Per chi si trova in condizioni di precarietà economica, sul sito web è possibile inviare la richiesta di sostegno, accedendo in modo anonimo a una rete di consulenza familiare e servizi di supporto. Un'apposita commissione verificherà la rispondenza dei requisiti della famiglia richiedente, dandole accesso ai benefici del Fondo Famiglie, eseguendone la situazione fino alla risoluzione della criticità. La rete di supporto, su cui poggia un euro a famiglia, è costituita da circa 300 consulenti familiari, che fanno riferimento a 596 associazioni, attive da anni sul territorio nazionale e a livello regionale e locale.